che bello fare il selfie con questo micione non preoccupatevi a sette vite in questo sketch qualcuno perderà la testa per la ragazzina dovinate chi? eccolo lì vediamoci altre belle ragazze ma un po' imprenate intervallo a scuola ma che zuccone oh l'hanno pure rifatto sono mica ripetenti l'immancabile pole dance si farà male? si la mica però rivediamo la sinuosità del gesto no signora non lo faccia l'ha fatto e si è anche incastrata io le darei un premio simpatia state per assistere ad un'uscita spettacolare questo ragazzino ha un futuro ma non da garagista strada leggermente ghiacciata del tipo non riesce a fermarsi no vabbè poi si ferma rimozione di auto incidentata bravi così mettiamo laggiù ecco l'intanto era già incidentata il camion a sinistra non ha assicurato bene i rulli vedete? speriamo che sia assicurato almeno il conducente rivediamo il mezzo si ferma ma loro prendono esatto un'auto abbandona il parcheggio e un istante dopo una un'auto back